Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto televisori LG 47LA640S47. Il televisore 47LA640S di LG dispone della tecnologia di retroilluminazione LED Plus per darti uno schermo sottile e un contrasto ottimale delle immagini. Questo televisore abbina anche la tecnologia Cinema 3D ai servizi della Smart TV LG per vivere tutto il meglio degli intrattenimenti connessi e in 3D. Lo schermo 47LA640S dispone di un processore triple 10 Benjen per un miglior trattamento dell'immagine. Dotato di una risoluzione HDTV 1080p e di una frequenza migliorata di 200 Hz, ti permetterà di approfittare anche della modalità 24P Real Cinema per darti delle sensazioni simili a quelle di una sala cinematografica. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.